Allenatori, vi informo che dal 29 al 1 ottobre sarà possibile incontrare noi di Pokémon Next alla Milan Games Week Per maggiori informazioni su come e dove trovarci, seguiteci su Instagram nei giorni di fiera Il traguardo richiesto nella parte precedente è stato raggiunto in pochissimo tempo Quindi, come promesso, eccovi altri 7 Pokémon totalmente o quasi diversi dalle loro pre-evoluzioni Prima di cominciare ci tengo a precisare che non sto in alcun modo criticando i Pokémon che ho trattato e che tratterò in questo video Ma che semplicemente sto andando ad evidenziare le differenze fisiche tra loro e le proprie pre-evoluzioni Non sto parlando di evoluzioni sbagliate come in molti hanno capito È ovvio che i Pokémon evolvendosi cambino ed è meglio così in fondo Ma bando alle ciance Prima di iniziare vi invito come al solito a mettere un bel pollicione in su al video per supportarci Ci arriviamo a 700 mi piace? Inoltre vi invito anche ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri nuovi video Ma senza indugiare oltre, possiamo cominciare Poche sono le somiglianze tra Serskit e la sua evoluzione Masquerain Almeno, secondo me Come la forma della testa e un po' gli occhi Ci sono poi alcune differenze Probabilmente quella più evidente è il colore più chiaro di Masquerain Quest'ultimo presenta poi delle antenne molto simili a delle ali Con un motivo che ricorda degli occhi aggressivi Infine la punta sul suo capo è molto più lunga di quella di Serskit Ed ha 4 zampe o alette romboidali Che la sua evoluzione non ha Tuttavia, quest'ultime possono essere associate alle zampette di Serskit Che comunque hanno una forma e una funzione differenti Elementi come questi rendono la correlazione tra i due Pokémon facilmente intuibile Nonostante le loro differenze fisiche Ecco un altro Pokémon iniziale Il quale l'ultimo stadio non assomiglia quasi per niente alle sue prevoluzioni Parlo di Chesnaut Proprio come per Samuroth trattato nella scorsa parte Infatti lo trovo abbastanza diverso da Chespine e Quilladin Chesnaut infatti non ha più il marrone insieme al verde come colore principale Ma un giallo molto chiaro Il guscio che prima aveva sulla testa e che poi lo ricopriva quasi completamente Si è spostato sulla schiena e gli spunzoni su di esso sono cresciuti Ci sono poi altri aculei rispettivamente sulle braccia e sulle spalle E' presente inoltre del folto pelo bianco sul muso e sul torace Snorant, piccolo Pokémon di tipo ghiaccio che si può evolvere sia in Gleli sia in Froslass se femmina Solo io trovo questi due Pokémon entrambi diversissimi da Snorant Partiamo con Gleli Col quale Snorant ha in comune la bocca, il colore dell'iride e la parte interna alla corazza di colore nero A proposito della corazza Questa è proprio la differenza principale tra i due Per il colore ma soprattutto per il fatto che adesso ricopre il Pokémon per intero Non lasciando scoperto nemmeno il viso Inoltre Gleli sembra non possedere più le zampette che aveva Snorant Ed ha invece delle corna nere che fuoriescono dalla parte superiore della corazza Passiamo ora a Froslass Che con Snorant ha in comune solo il colore dell'iride come per Gleli del resto Il guscio che ricopriva Snorant ora ricopre quasi tutto il viso lasciando scoperta la mascella e prolungandosi sulle braccia L'interno non è più nero ma viola e possiede due corna ghiacciate sul capo Infine attorno alla vita vi è una specie di fascia rossa Proprio come per Snorant ora andremo a parlare di un Pokémon che si evolve in due Pokémon molto diversi da questo Parlo di Clamperl che si può evolvere sia in Untail sia in Gorebys Partiamo prima da Untail che con Clamperl non ha praticamente nessun punto in comune Gorebys infatti è basato su un pesce abissale Mentre Clamperl sembrerebbe essere ispirato ad un'ostrica Faremo prima ad analizzare le somiglianze tra i due se solo ce ne fossero Almeno per Gorebys ispirato invece ad una specie di anguilla ce ne è una di somiglianza Il colore Concludiamo con Trapinch o meglio Vibrava Lo so, lo so Trapinch è basato su una larva di formicaleone mentre Vibrava su una formicaleone Che comunque sono diversissimi tra loro Questo dà un senso alle loro differenze ma di fatto non le elimina Comunque le sagome dei due Pokémon sono diverse Così come i colori dominanti dei due Pokémon Vibrava inoltre possiede 6 ali romboidali Degli occhi differenti da quelli di Trapinch E delle antenne Che dire ragazzi anche per oggi è tutto Prima di concludere quel video vi invito a passare per i nostri social E per il nostro sito di cui trovate tutti i link in descrizione Spero il video vi sia piaciuto Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.